E' appreso proprio in questo momento il pallone ufficiale di questa gara, si dirige verso il centro del campo dove tra poco avverrà il saluto da parte delle due formazioni protagoniste nei confronti del pubblico presente qui allo stadio comunale. E' arrivato anche il nostro opinionista di sport-up e calcio di rigore Massimo Zanini, stiamo aspettando anche l'arrivo di Renzo Baldisseri, se riusciremo faremo un commentino anche con loro per questo match in programma, proprio in questo turno infrasettimanale. Qualche nuova fischia in questo istante e via al calcio d'inizio, subito questo tentativo ad opera di Balducci che ha provato ancora il nuovo affetta che gestisce questo pallone. Alto traversone di Cupi, che attenzione, viene battezzato inizialmente, a sua volta apre Muratori in direzione Cupi, ancora Cupi, va alla conclusione. Dopo 5 minuti lancio in direzione Cupi, mette al centro Cupi anticipato Muratori da Pieri, altro colpo di testa Mamutai, Baldinini, ancora Baldinini, tiene palla, apertura e c'è il gol! C'è il gol di Muratori, c'è il gol di Muratori! La versione al centro, rinvia la difesa del Roncofrido, altro tentativo questa volta di Amantini, pallone fuori. Appunto alla fine di questo match sui nostri canali YouTube, poi ricorderemo gli appuntamenti, intanto gran conclusione, gran parata di Semprini. Al diciottesimo minuto, grande, Rodovicchietti. Benvenuti. In avanti il pallone per Vitali, il tiro è gol! Anzi, benvenuti. 1-1 Matte Graziani colpisce in pieno, un avversario, poi Neri si divora e goda il vantaggio, Neri, incredibile! Un rigore in movimento. In direzione Cupi, grande numero di Cupi. Traversone al centro, arriva Mamutai di testa, mettele sul fondo. Guardatura anche sul direttore di gara. Termina qui dunque il primo tempo tra Nova Felte e Roncofredo sul risultato di 1-1. Maldinini, Cupi, traversone al centro. Roversati i muratori, che gol! Mamma mia che gol! Mamma mia! Che gol ha fatto Muratori! Non si vedeva una gol così da anni! Che gol che ha fatto in Oversata! Questa è una prudezza trepitosa! Mamma mia che gol! Solo applausi per questo gran gol di William Muratori. Ripetende forse un po' troppo. Cupi recupera il pallone per i suoi. Traversone a cercare Baldinini. Qui Baldinini strattonato. Piesce a allargare il gioco. Il tiro! Salva Tazzo sulla linea. Ancora l'altro tiro di Muratori. E grande apparato di Bonanno. In avanti per Sebastiani. Il per Sebastiani è un articolo al centro. Attenzione a Muratori. Cosa si è mangiato in questo caso? Ma che azione che ha fatto in Nova Felte in veloci Cupi. Il pallone è in avanti a cercare Muratori. Quarta dovessere di Muratori. Centro dell'area di rigore. Cupi la concursione centrale. La persona al centro dell'area di rigore. Graziani. fuori gioco. Sul punto di battuta. Quasi 22 minuti di gioco sul cronometro. Nuova Feta conduce per 2 a 1 grazie alla prudezza arrivata in questa ripresa ma dopo a di Muratori. Attenzione Rinaldi conclusione! Non va! In avanti per Sebastiani anzi per Muratori. Ancora Muratori. tiene palla a Muratori. Trentesimo in corso. Apre centralmente per Cupi. Cupi fermato sul più bello ma ancora in Nuova Feta che insiste. Attenzione! Il tiro a giro di un colore! Annullato! Il tiro! Alto pallone alto! Si è sembrato sempre ad opera di Balducci. negra! Grazie a tutti! Grazie! Allora! Allora! Grazie.